Negli ultimi quattro anni mi sono molto concentrata nel raccontare e celebrare narrazioni diverse legate all'Africa e alla sua diaspora e l'oro chiusa all'interno di una piattaforma creativa, un magazine online che si chiama Grio. Nasce da un'esigenza personale, nasce appunto dalla esigenza di portare in luce storie diverse rispetto a quelle che ero abituata a vedere, nasce dalla esigenza di creare un network, uno spazio di condivisione artistica, creativa e culturale che sia fonte anche di ispirazione in cui potersi riconoscere. Mirrors, questo progetto che ha una performance artistica multidisciplinare che include danza contemporanea, video arte, musica, light design e non è altro che il naturale proseguio di Grio, di quello che sono, delle mie origini, della mia famiglia, quindi le mie origini etiane e africane e naturalmente parte anche dalla voglia di portare ancora di più in superficie queste storie che partono appunto da radici comuni e da culture che si incontrano. Grazie.